E saluto ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nostro amico MCTK che parla oggi siamo a ritornare di un nuovissimo video Allora oggi siamo con il post partita delle partite delle 15, un po' in ritardo Perché in questo momento sto giocando Frentina Napoli, 1-0 con la Frentina 6 Allora, in primis nel titolo c'è Elas Veruna a spalla che finisce 3-1 per Elas Veruna Con il vantaggio dell'Elas Veruna da parte di Valuti Poi è arrivato il pareggio della spalla però con un autogol con il colpo di testa di Fares C'era fatto l'attaccante puro quest'autogol Poi è arrivato il 2-1 di Felipe a porta libera con il colpo di testa E poi Kurchic ha segnato il gol del 3-1 per la spalla Questa è stata una partita che vale una stagione questa qua è stata Perché innanzitutto la spalla sembra quasi salva Perché siamo a 3 giorni della fila però non è ancora tutto finito Però sembra quasi salva la spalla Poi il Chievo Veruna che scivola in 18esima posizione in zona retrocessione Insieme all'altra squadra di Veruna ovvero l'Ellas Dunque Chievo e Ellas, le due squadre di Veruna sono in zona retrocessione Non è che fallimento che sarebbe se retrocessero in serie B Mamma mia Vabbè Andrà la spalla che ha conquistato i punti di salvezza Sarà 32 punti in classifica Poi il Crotone che ha vinto 4-1 con il Sassuolo in casa Poi l'Atalanta che vince con lo stesso risultato della spalla 3-1 in casa contro il Genova Con il vantaggio di Barro Poi il raddoppio di Cristante che ha segnato 9 gol in questo campionato Veramente complimenti Poi Ilicicce nel 3-0 E poi Peluso che ha calciato le distanze per il Genova Segnando il gol del 3-1 L'Atalanta che conquista altri punti per l'Europa League Però il Milan è ancora lì E ancora lì ha grappato ai nero azzurri A 57 punti A meno uno dall'Atalanta che sta a 58 Poi l'Atalanta sta a più 4 sul Fiorentina Che sta vincendo al momento E sulla Sampdoria che sta a 54 punti Appunto insieme alla Fiorentina Poi l'Udinese che dopo 11 partite Conquista finalmente un punto Però beffato all'ultimo Perché ha fatto 3-3 Una partita pazza questa a Benevento In casa del Benevento L'Udinese che passi in vantaggio 1-0 in casa contro 1-0 in casa con il gol di Widmer Poi il Benevento pareggia con Viola All'interno è il secondo tempo di Fiorentina-Napoli Poi Cuda porta in vantaggio Il Benevento sul calcio di Reggio di Calzalavar Poi la Sagna in un minuto Segna 2-2 e 2-3 E poi Sagna al novantesimo Ha pareggiato Ha segnato il gol del 3-3 Ha segnato anche il suo primo gol Con la madre del Benevento in Serie A Poi il Milan che vince 2-1 in casa del Bologna Con il Bologna che gli hanno annullato un gol Per la mano Poi Rossellino ha tirato Ha segnato il gol Però la barra E l'ha tolto Poi il Milan che è passato in vantaggio Grazie a gol di Cialanoglu E poi è arrivato il 2-0 di Buonaventura Poi nel secondo tempo De Maio ha segnato il gol del 1-2 Ecco c'è tra le distanze per il Bologna Come ho detto prima Il Milan che conquista altri punti per l'Europa League Poi la Sampdoria Che vince 4-1 in casa contro il Cagliari Cagliari che sta passando un momento molto brutto Stanno qua passano macchina mamma mia E che rumore fanno Cioè Allora Il vantaggio di Praet per la Sampdoria Poi il raddoppio di Quagliarella Che poi sbaglia il calcio di rigore colpendo il palo Poi arriva il 3-0 di Kounacchi Poi il Cagliari che ha con certo distanze Che ha segnato il gol di Pavoletti E poi il Gastrona Mires Che ha segnato il definitivo 4-1 Per la Sampdoria Sampdoria che conquista altri punti Per almeno lottare Per l'Europa Stà 54 punti A meno 4 Dalla zona Dal sesto posto Occupato dall'Atalanta Poi sta A meno 3 dal Milan A pari punti con la Fiorentina Che al momento Al momento Sta vincendo In una zona in casa contro il Napoli Comunque Beh ragazzi Spero che questo video si è piaciuto Commentate Iscrivetevi Iscrivetevi al mio canale Ma soprattutto A tutti i video Noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao